Fiorilli, si parla ancora del problema dei sversamenti nel fiume Pescara, l'ennesima denuncia che presentate oggi. Sì, purtroppo Pescara Mi Piace è diventata famosa per queste denunce che si sono rivelate sempre vere, non solo fondate ma troppo spesso più drammatiche di quelle che noi rappresentavamo. In questo caso un'ulteriore denuncia di sversamento in mare direttamente dal depuratore con una procedura particolare denunciata dalla stessa azienda che gestisce il depuratore la procedura ILC 33.03 che non significa altro che bypassare il depuratore e sversare direttamente in mare. Procedura d'urgenza che dovrebbe adottarsi quando le condizioni meteorologiche non consentono al depuratore di filtrare tutta l'acqua ma in questo caso non ne capiva il motivo. Ma la cosa grave per quanto ci risulta e in base ai documenti che stiamo consegnando alla stampa è che dal 15 gennaio al depuratore di Pescara è stato attivato il bypass e fino ad oggi non abbiamo notizie sulla chiusura. Quindi vuol dire che dal 15 gennaio ad oggi il depuratore sversa su Fossocavone che è sversa direttamente nelle fiume Pescara. Mancano tre mesi circa all'inizio della stagione balneare. Qual è la situazione ad oggi per quello che risulta a voi? La situazione è gravissima e stendiamo solo chiacchiere. Si parla di un mega appalto dell'acqua per il prossimo depuratore. Siamo al 17 di febbraio, i lavoratori dovevano partire a metà febbraio 2017. Quindi questo fa il quadro di tutto quello che orbita intorno all'inquinamento del fiume Pescara, del mare e delle attività balneari e delle attività produttive. Non dimentichiamo che nei giorni scorsi l'ASL ha sospeso la vendita delle vongole perché piene di feci.